Per questa attività sarà chiamata in causa anche la neonata agenzia per la sabersicurezza nazionale? L'agenzia sarà sicuramente un punto di snodo importante che tratterà in maniera olistica tutta la resilienza del mondo del web quindi tutte le sue declinazioni sarà un polo importante e si occuperà di tutte le patologie del sistema. In questo momento la polizia postale in che modo interviene tempestivamente contro la pirateria audiovisiva in Italia? Noi siamo molto impegnati su questo fronte, abbiamo fatto diverse operazioni tutte molto articolate sgominando organizzazioni criminali che avevano anche le loro basi all'estero. È un fenomeno purtroppo in crescita, vediamo che oggi la violazione del diritto d'autore passa essenzialmente attraverso la violazione in qualche modo delle piattaforme, delle aziende che sono dietro le piattaforme e che quindi hanno una continua emorragia nei confronti perdite di risorse importantissime perché insidiate pesantemente da organizzazioni criminali. Spesso parliamo di una criminalità organizzata che poi in qualche modo si approvvigiona di strumenti informatici, si compra sul dark web, professionalità che non possiede al proprio interno o strumentazioni, piattaforme informatiche per mettere su dei sistemi di pirateria sofisticati che sottraggono una marea di risorse a queste aziende. Io credo che i problemi fondamentali siano diversi. Il nostro contrasto sicuramente è efficace sia sotto il profilo criminale perché va a disarticolare delle organizzazioni molto ben strutturate, ma anche come segnale preciso a chi ancora non ha l'assoluta consapevolezza che accedere alla fruizione di contenuti in modo abusivo, illegale, costituisce un reato ed è un reato grave, non solo sotto il profilo penale, ma anche sotto il profilo del disvalore etico. Noi andiamo a colpire aziende, lavoratori e alla fine anche la qualità del prodotto. Soltanto una impresa che ha ben investito e che ha un sistema che funzioni può garantire una qualità di prodotto importante. Quali sono le nuove modalità di fruizione e di trasmissione di questi contenuti legali che state monitorando per contrastare? Sono molte, purtroppo come è stato detto anche oggi nel convegno le norme sono molto più lente della tecnologia e quindi il nostro contrasto si deve evolvere continuamente. Noi abbiamo disarticolato organizzazioni criminali che avevano creato delle organizzazioni molto grandi per cui da una serie di abbonamenti illegali creavano poi tutto uno streaming illegale a partire da queste grazie a piattaforme informatiche sofisticate. Ma tutto questo, ripeto, si evolve continuamente, si evolve sotto il profilo digitale, si evolve il modo di captare il segnale, la qualità del segnale, la vendita degli abbonamenti. È tutto molto veloce nel mondo digitale e quindi anche noi siamo costretti a una velocità di riorganizzazione e di formazione dei nostri apparati di contrasto.